Gante, il maestoso demone drago! Bravo, Tabichun, continua così! Corri, coppe! Più veloce, no su, che! Ehi, chi vi ha detto di fermarvi? Sura! Tiro lungo, Araizo, vai di testa! Non farti battere da Tabichun! Fatti valere! Così, coraggio, bravo! Così, così! Aiuto! Mamma! Mamma! Ehi! Sia! RIDING! RIDING! RIDING ATTENDENT! RIDING ATTENDENT! Svegliati, brode! RIDING ATTENDENT! Smesso, evviva! È vero! Sta giù, tu, fermo! E la mamma, Riso, ti manca ancora? Puoi che ti ci portiamo subito? Oh, piccolo di mamma! Sta giù un taglio! Tornate a casa, le vostre famiglie saranno preoccupate! Ci vediamo! Risvegliati, brode! Il tempo di adempiere al tuo destino è giunto! RIDING ATTENDENT! Eh, ma Akira! Akira, che hai? Risvegliati, brode! RIDING ATTENDENT! Akira! Akira! Capitano! Risvegliati, brode! Il tempo di adempiere al tuo destino è giunto! I demoni stanno arrivando! Prode! userai RIDING per impedire l'avvento dell'era dei demoni! Vai verso il mare! Alzati e vai verso il mare! Risvegliati, brode! RIDING ATTENDE! Akira! Capitano! Che ti è successo, Akira? Verso il mare! Oh, il mare! Oh, ci vediamo! Piacere, 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 Piacere! Capitano! Piacere, Piacere, Piacere! Piacere, Piacere! 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 VegetaTナ! Piacere, Piacere! Hani! Piacere, Piacere! Akira ha versa la testa! Dite! Siete proprio sicuri! Cos'è? Non mi credi! È vero! Lo vedrai coi tuoi occhi! Akira! Torni indietro! Akira! Dove vai? Ah! Ah! Come? Akira? È uscito in mare aperto con un motoscaffo? Sì! Ma cosa avrà in mente quel ragazzo? Higashiyama, contatta subito la nave di ricerca Mutron! Avertiamo Ichiro! Sì! Professore Mickey, mi scusi, c'è un messaggio urgente per lei Dice di recuperare subito suo figlio, è uscito in mare da solo Akira, in mare? Sì! Prima il terremoto, adesso Akira! E questo è... cosa? Questa è... Questa è... Rode, quello è il nemico Il nemico Il nemico che devi combattere Ma guarda Maestoso Cante, demone drago dell'impero di Yoma Sembra proprio che quell'essere umano si sia terrorizzato al tuo cospetto, povero piccolo Drome, continuate l'opera Questo sarebbe il mio nemico Perché? Rode, l'era dei demoni è cominciata Risvegliati Raiden attende E ora muori, inghiottito da quel gorgo C'è qualcosa nel mare Ehi ma, una piramide in mezzo al mare, cosa significa? Non temere Il tempo del risveglio è giunto, Prode Raiden attende dentro Prode, recita queste parole Rode, nenshin kirik Recitale, nenshin kirik Nenshin kirik Ko su kon rai Ko su kon rai Destati, Prode Destati Destati, Prode Destati Riding 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 Quella luce, l'ultraschermo non la regge Ah, cos'è quello? Ah Il risveglio è completo Grida Rade E poi salta Riding 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 Fusione Fusione Riding 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 Grazie! Rai! Più giù, più giù, ancora più giù, ecco, fai un po' così Non vedo niente, spostatelo sia bello! Subito! Preso, vediamo un po'! Ehi, ehi, fa vedere, fa vedere! Scusa, vicecapitano, ma i telescopi non si guardano dall'altra parte! Quelli fatti così si guardano da qui, che vuoi saperne tu, bamboccio? Ma chi vi ha dato il permesso di usare il mio prezioso telescopio? Volevamo solo sapere che fine ha fatto il capitano! Non se ne parla neanche, sentite il media dare su! Rai! Attaccatelo! Ha sovraccaricato il mio schermo, fatelo a pezzi! Rai! Il destino si è compiuto! L'antico re è qui risolto! Dove sono? Fatemi uscire! Prode! La tua vita ora è in simbiosi con Rai! Lui combatterà in base alle parole che pronuncerai! Non voglio! Fatemi uscire! Devi combattere, rode! Rai! Rai! Rai di in pugno! Dai! Scudo mistico! Rai! Scudo mistico! Attacco lacerante! Che succede? È veramente un avversario così temibile? Drome, attaccatelo tutti insieme! Forza! Distruggete colui che ostacola all'avvento dell'impero di Yoma! Rai! Spada divina! Uffa, non è giusto! Fai vedere anche a me! Voglio vedere anch'io! Allora, ci dico qualcosa! Cosa vedi, professore? Guarda tu stesso! Ma che cosa è? Quella è la nave di ricerca, ma c'è anche una specie di mano gigante in cielo! Fate vedere anch'io a me! Dov'è voi fare silenzio? Quel maledetto ha la pelle dura! Generale Ghiab! Che c'è? Abbiamo individuato la nave che il sacerdote Velostan aveva ordinato di cercare! Procede verso di noi! Cosa ordina di fare? Bene, catturatela! Rai! Ma quella nave! Invertiamo la rotta, presto! Rai! Mettetevi al riparo! Stai attento, papà! Il nemico! Il nemico ti sta dando la caccia! Questa voce è... Sono Akira! Papà, mettiti al riparo, per favore! Akira! Papà! Non riesco più a muovermi! Papà! È diventato di pietra! T'è andato a massa di metallo? Possibile che il fulmine nero di Gunther non abbia alcun effetto su di lui! Rai! Rai! Bumerang supremo! Rai! 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 Non potrai salvare quegli uomini tramutati in pietra Appartengono ai demoni ora La prossima volta giuro che ti distruggerò Ti sbagli! Sarò io a distruggere te adesso! Raggio di luce psichica Illuminazione suprema! Che cos'è questa luce? Non la sopporta! Maledetti demoni! Devo tornare subito! Non posso, non posso più, non posso più resistere! Supremo imperatore varà Abbiamo catturato la squadra di ricerca Motron E tuttavia credo che quel Raidin diventerà il nostro più temibile nemico Che? Vedo qualcosa! Vedo qualcosa che si avvicina! Si viene addosso! No! 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 Ma Raidin! Akira, stai bene! Akira! Capitano! Guardate, è svenuto di nuovo! Akira, che succede? Akira, cosa hai detto un attimo fa? Raidin! Che cosa? Raidin? Professore, cosa sta succedendo? Chi è Raidin? Il pro de Raidin! Negli antichi testi del continente perduto di Mu è scritto che Raidin si sveglierà e combatterà contro i demoni! L'era dei demoni è cominciata! Grazie a tutti!